Amici di Unibet, eccoci qua, ci stiamo avvicinando alla prima partita importante della stagione, finale di Supercoppa tra Lazio e Juve. La Lazio si presenterà secondo me con un modulo di tre difensori, cinque centrocampisti e due davanti, due giocatori veloci che credo saranno Immobile e Anderson. La Juve con il classico 4-2-3-1 e come giocatori ritengo che la Juve sia selettamente più forte, però deve temere un attimino la Lazio perché secondo me cercherà appunto come lettura di gara lasciare a possesso palla la Juve e poi cercare le ripartenze veloci per poter metterla in difficoltà. A questo punto della stagione non si sa la condizione a che punto sia, quindi è una partita, sì, sulla carta la Juve è più forte, però deve stare attento, insomma, anche se alla fine secondo me la Juve riuscirà a vincere questa gara, però sarà una gara non facile. Per la Lazio ci sarà appunto da vedere il nuovo acquisto, l'Eiva che secondo me partirà dall'inizio, la Juve inserirà appunto di Sciglio, Petrardeschi e Douglas Costa, quindi tre nuovi acquisti pesanti. Ripeto, una gara che si fa fatica ad analizzare, però alla fine, ripeto, la Juve credo che finirà questa Supercoppa. Sono sempre Evaristo, scusate se insisto.